C'è un fenomeno di recente formazione che in Italia coinvolge circa un quinto dei ragazzi, perché oggi il 34% del bullismo è online, sui social o nelle chat. Si tratta del cyberbullismo, termine che indica un tipo di attacco ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Come nel bullismo tradizionale, il prevaricatore prende di mira chi è ritenuto diverso per aspetto estetico, orientamento sessuale o politico e così via. Le conseguenze sono l'erosione della volontà di aggregazione, l'isolamento, la depressione e, nei casi peggiori, intenzioni di suicidio. E spesso i molestatori non si rendono conto di quanto il loro comportamento possa nuocere. Per questo stamattina si è tenuto al Cineteatro Rosso di San Secondo un convegno organizzato dal Lions Club di Capodorlando e dalla Camera Penale e dall'Ordine degli Avvocati di Patti. I presidi e i professori si rendono conto di quanto importante sia far capire ai giovani determinate cose. Il fenomeno del cyberbullismo è un fenomeno gravissimo, non c'è giorno in pratica che non si senta parlare di qualche episodio spiacevole, duro episodio con suicidi, ci sono morti di mezzo per via, chiamiamola leggerezza, chiamiamola come vogliamo, di certi giovani che non si rendono conto del male che fanno quando mettono in atto determinate azioni. Il fenomeno di internet ha tantissimi aspetti positivi, però comporta anche queste, diciamo, ombre oscure, tra cui quello del cyberbullismo. Magari è un fenomeno che nelle nostre zone è abbastanza ridotto, però effettivamente arriva al punto di portare a conseguenze veramente tragiche e quindi è bene che i ragazzi si rendano conto che possibilmente il, definiamolo il piccolo sfottò sul Facebook o l'intervento sul compagno, può determinare dei fattori, soprattutto di carattere psicologico, che alla lunga possono portare gravi conseguenze. Di recente il legislatore è intervenuto con una legge 71-2017 che ha, da un lato, privilegiato l'aspetto preventivo, quindi della prevenzione di questi fenomeni, soprattutto in ambito scolastico, è ridotto invece quello che poteva essere l'ambito di repressione dal punto di vista penalistico di queste condotte, che invece resta sempre relegata ai profili della diffamazione, del stalking oppure delle minacce o ai posti in essere secondo i criteri del codice penale. La legge prevede innanzitutto che dentro gli istituti o negli enti ci sia una figura di riferimento. Ci sono dei moduli da distribuire alle persone, specialmente ai ragazzi dai 14 a 18 anni, i quali per la prima volta hanno la possibilità di intervenire con i social per poter abolire, escludere, oscurare quelle che sono delle immagini che offendono la reputazione delle persone.